Quest'anno nella nostra diocesi si svolgerà la festa del perdono, un momento di aggregazione giovanile ma soprattutto un momento in cui ci vogliamo preparare insieme come diocesi al giorno di Pasqua dove vogliamo sperimentare la bellezza del sacramento della riconciliazione della confessione. Allora ci ritroveremo il 14 di marzo presso la chiesa Sant'Antonio Abate 10 Sant'Antonio alle ore 20 e 30 tutti i gruppi giovanili della nostra diocesi per poter riflettere insieme e soprattutto prepararci bene alla festività più importante per noi cristiani, quella della risurrezione. Grazie a tutti.